Ciao Andrea, grazie per essere intervenuto, grazie a voi per averci invitato. La vostra azienda è stata un'azienda molto sensibile anche verso la nostra problematica, siamo persone che comunque utilizziamo anche i vostri prodotti, che sono prodotti di estrema qualità e rivolti ad un pubblico assolutamente professionista e tra i non venenti ci sono molti musicisti professionisti che usano con soddisfazione i vostri prodotti. Vorrei che tu ci raccontassi qualcosa di voi, un po' come nascete, cosa avete fatto, cosa state facendo e cosa farete. Non ti interrompo così ti faccio andare tranquillo. Vabbè, ci facciamo una chiacchierata, noi siamo qui anche per questo. Allora, cercherò di essere, insomma, di venire subito al punto. Acustica Audio nasce dall'idea di Giancarlo del Sordo che è il nostro CEO e anche un po' la mente che è dietro a tutta la tecnologia che si sviluppa e che è stata sviluppata per questi plugin audio. Acustica Audio diciamo che è sul mercato in modo presente, stabile e anche molto, diciamo, apprezzata per quello che fa da, diciamo, dal 2015 ad oggi. Ma in realtà le radici di Acustica Audio affondano ben prima perché Giancarlo ha cominciato prima per suo studio personale, poi per sua necessità personale a sviluppare il motore di Nebula. Nebula è appunto questo engine che è un player di quelli che sono i campionamenti fatti sulle macchine hardware, anche macchine molto costose, per poterli usare poi in digitale. Quindi lui ha cominciato a sviluppare questa tecnologia che non era pensata inizialmente per diventare un prodotto commerciale, ma era uno sviluppo pensato proprio per delle necessità personali. Fino a che poi nel corso degli anni è diventata, diciamo, ha attratto l'attenzione dei professionisti in quanto aveva un approccio completamente diverso da quello che era il modeling algoritmico nel campo audio-digitale fino a quel momento. E anche perché si, diciamo, era percepita un po' come l'unica alternativa, sebbene agli albori, all'acquisto vero e proprio di materiale analogico, anche piuttosto proibitivo da un punto di vista economico. Da quel momento poi Nebula si è un po', Nebula come progetto è evoluto e Acustica, Giancarlo prima e poi Acustica dopo, che ha cominciato a diventare sempre più strutturata con l'ingresso di Francesco Tedeschi, che è stato uno dei primi sviluppatori a far parte del team, ha cominciato ad attrarre l'attenzione di una nicchia di audio-engineer da tutto il mondo. Esatto, questo che vediamo sullo screen sharing è il primo, diciamo, il Nebula classico, il Nebula a cui tutti sono un po' abituati, diciamo, con cui erano abituati a lavorare. Perché sono un po' antico. Ma in realtà Nebula ha ancora moltissimi fan, possiamo dire, anche se adesso siamo arrivati al Nebula 4 con un nuovo motore, un nuovo engine, stiamo lavorando a nuove implementazioni, ma il Nebula 3, diciamo, viene ancora visto come un oggetto pionieristico. È bellissimo, mi ricorda i miei anni 80 quando è iniziato. Allora, io stesso, racconto un po' questa cosa, io stesso ero alla ricerca nel 2011-2012, mi ricordo, di una alternativa al classico processore algoritmico che però mi permettesse di lavorare comodamente in the box, quindi completamente in digitale, perché io non sono un collezionista di hardware come molti e ho bisogno, come molti, di una soluzione che sia trasportabile. Allora, all'epoca c'è da dire che i computer non erano potenti come oggi e Nebula comunque era in grado di piegare un qualsiasi computer già con poche istanze. La cosa non mi spaventò all'epoca, avevo comunque, ero comunque molto interessato a questa tecnologia, da utente, sto dicendo, proprio da utente, fino a che non mandai, mi ricordo, a Giancarlo stesso un po' dei messaggi di apprezzamento e piano piano siamo anche entrati in contatto, siamo entrati così, abbiamo instaurato un rapporto di amicizia che poi nel 2018 si è trasformato proprio in un rapporto di collaborazione, perché io adesso sono parte integrante dell'azienda. Però, ecco, diciamo, il Nebula è stato proprio lo spartiaco fra quello che era un mondo digitale basato esclusivamente sull'algoritmo e un mondo digitale basato sul campionamento vero e proprio. Quindi la tecnologia che si chiama Vectorial Volterra Kernel è basata su teorie matematiche di cui non, diciamo, che non affronteremo anche perché non sarei in grado di entrare nel dettaglio, mio malgrado, ma forse è anche un bene questo, perché vi annoierai terribilmente. Diciamo che la differenza sta nel fatto che invece di usare un algoritmo noi andiamo negli studi oppure troviamo, cerchiamo di mettere le mani su dell'attrezzatura rara, costosa, certe volte anche da rimettere a posto prima di campionarla e la campioniamo. Cioè, quindi è un processo anche abbastanza lungo e che richiede abbastanza pazienza. Rasta un vantaggio perché il tutto l'agro è un po' datato, richiede tantissima manuzione, che è una cosa difficile da trovare chi la possa eserire e con dei posti molto alti. Esattamente, è proprio questo. Cioè, il concetto è che se uno, ad esempio, legge quello che è il manifesto dell'azienda, è una cosa a cui io tengo molto anche da un punto di vista di comunicazione. Il manifesto dell'azienda dice proprio questo, cioè, in questi giorni di accessibilità, per l'appunto Accessibility Days, si torna anche lì, essendo la musica anche non solo un piacere, ma a mio avviso, mio modestissimo avviso, anche un diritto, non è giusto che ci siano persone, a mio avviso, che semplicemente per una disponibilità economica maggiore possano permettersi oggetti che molti altri non si possono permettere. Per cui, in realtà, la tecnologia alla base di Nebula, prima e poi con gli Aqua Plugin, perché poi c'è stata questa evoluzione... Sono state anche delle cose free che avete messo in disposizione. Assolutamente, certo. Assolutamente. Noi, chi vuole, diciamo, ed è curioso di entrare nel mondo acustico, può farlo in qualsiasi momento scaricando un Nebula Player che è completamente gratuito. Mettiamo a disposizione anche delle librerie pronte da essere usate e anche degli Aqua Plugin pronti da scaricare. E da notare è anche questa cosa. Noi, quando facciamo un plugin gratuito, non è un plugin inferiore agli altri, da un punto di vista sonoro, da un punto di vista di concetto, ma è un plugin che è esattamente allo stesso livello degli altri perché semplicemente rappresenta quello che è, ovvero un campionamento di una macchina analogica. Probabilmente è ovvio che un plugin free... Cioè, invece di avere 30 macchine, magari ce n'è una. Ce n'hai una, fa una cosa molto semplice, come ad esempio un Titanium Free, fondamentalmente è un pull textile EQ, ha pochissimi parametri, ma il suono è quello che ci si aspetterebbe dalla macchina originale, né più né meno. Quindi, diciamo, torniamo a come era una volta che tu hai magari tre cose, la frequenza, l'ampiezza e il gain, senti benissimo e non hai bisogno di miliardi di parametri che a forza di toccarli praticamente snar puri tutto. Esattamente. E tornando a Nebula, Nebula poi si è evoluto in questi Aqua Plugin. Gli Aqua Plugin non sono nient'altro che, diciamo, la, chiamiamola, una trasmutazione grafica e di utilizzo di istanze Nebula che poi vengono in realtà impacchettate all'interno di una grafica. E di un... Esatto, esatto. Il suono è quello, perché la tecnologia è quella. Noi chiaramente andiamo avanti apportando migliorie e perfezionando la tecnica e perfezionando anche il motore che è alla base. Non ultimo, ultimamente, ci siamo anche... Abbiamo approfondito la tecnologia dell'AI, quindi dell'Artificial Intelligence, del Deep Learning, perché abbiamo cominciato a introdurre all'interno dei plug-in questo tipo di tecnologia. In particolare, una tecnologia che si propone di mettere e di impacchettare all'interno del plug-in l'esperienza degli engineer che coinvolgiamo via via nella creazione di preset basati sull'Artificial Intelligence. Cosa vuol dire? è che noi, ad esempio, creiamo un prototipo di un plug-in che uscirà, contattiamo Mixing Engineer da tutto il mondo, anche in Italia, molti ci hanno aiutato perché abbiamo fortunatamente molti ingegneri italiani nostri amici e nostri fervidi, diciamo, dei fan e utilizzatori, fra cui Alex Trecarichi, Tommy Bianchi, Gianni Bini, Salvatore Addeo, anche produttori come Marco Zangirolam, i Big Fish, sono tutti nomi che utilizzano i nostri prodotti giornalmente, no? Nei daily basis, come si direbbe in gergo. E loro, alcuni di questi, anche Christian Milani, allora, ce ne sono veramente tanti, loro mettono a disposizione il loro tempo, la loro esperienza per creare dei preset per questi plug-in. Mi perdoneranno quelli che non ho nominato perché sono tanti, anche all'estero, però... ma perché così tanti italiani sono poesia stranieri e ci siete italissimi? Scusami, non ho capito l'andata... Perché tanti italiani pensano che l'acustica sia una ditta straniera e invece sono italissimi? Eh, lo so, allora, ci sono varie ragioni, innanzitutto per arrivare banalmente a un pubblico più ampio all'inizio diciamo la scelta comunicativa è stata quella di avere una lingua inglese alla base, usare la lingua inglese per un po' anche promuovere il prodotto a una fetta più larga di utenti. In realtà noi abbiamo in ponte un progetto di localizzazione anche dei contenuti perché pensiamo sia giusto a un certo punto averlo. In realtà la nostra italianità è vero, confermo che per molti è quasi una sorpresa quando vengono a sapere che stiamo all'Odi vicino a Milano. Cioè pensano tutti che siamo negli Stati Uniti banalmente. Infatti tante persone mi dicono questa cosa e dicono no, sono più italiani di noi. Esatto, no, no, infatti avete fatto questo come unica al mondo perché avete utilizzato l'arte italiana aggiunta alla tecnologia. Esattamente sviluppata sviluppata fondamentalmente all'inizio da una sola persona ora siamo per fortuna l'azienda è cresciuta perché siamo contenti di aver fatto un prodotto che soddisfa le esigenze di tanti professionisti abbiamo nuovi sviluppatori adesso nel team stiamo rifinendo tutte quelle che erano un po' chiamiamole le lacune che abbiamo accumulato un po' negli anni e che non nascondo che certe volte ci hanno creato un po' di problemi anche sui forum come posso dire certe volte sai i professionisti vorrebbero tutto e subito però chiaramente non si può non si può avere così come nell'analogico ci sono le macchine che costano tanto che comunque si rompono anche in digitale ci sono dei certo ci sono delle rifiniture che vanno fatte e le stiamo facendo però lo stiamo facendo anche con l'ottica di evolvere da un punto di vista tecnologico e l'artificial intelligence e la tecnologia deep learning è qualcosa che ci incuriosisce molto non sappiamo dove ci porterà dove potrà portare questa tecnologia infatti proprio un po' di tempo fa me lo stavo chiedendo nella musica cioè in questo settore cosa può dove può arrivare ma allora la tecnologia basata sulla i adesso comincia un po' ad essere ovunque da quelli che sono dei servizi online anche addirittura di traduzione a quelli che sono dei servizi di composizione musicale basati sulla i molti sono sperimentali destano curiosità più che essere realmente utili nel nostro caso noi abbiamo cominciato dall'implementare l'intelligenza artificiale in modo mirato per poi andarla ad allargare in futuro diciamo anche ad altre applicazioni potrebbe essere il mixing potrebbe essere il mastering o reti neurali ben più complesse che con Giancarlo e con tutta l'azienda valutiamo di volta in volta in realtà in realtà adesso noi siamo ancora agli inizi perché abbiamo cominciato quest'anno ma siamo sempre molto sensibili ai cambiamenti tecnologici pur non scordandoci da dove veniamo ecco diciamo questo ascolta io voglio solo farti dire una cosa che riguarda proprio noi che non vediamo in quanto purtroppo i nostri screen reader per motivi che adesso di cui non andiamo a parlare ovviamente non funzionano su alcun plug-in ma come posso farti vedere noi abbiamo creato un software che che ci permette di fare questa cosa qui e poi dal nostro Reaper Reaper ci presenta una come puoi vedere i parametri che noi possiamo vedere qui in questa lista dove vediamo i parametri di questo tu pensi che ci sarà mai un modo per compatibilmente con quelli che sono gli SDK che voi ai quali voi dovete attenervi chiaramente perché eccetera eccetera di venire in qualche modo incontro ancora di più all'accessibilità per fare sì che non possono svilupparsi un software eccetera eccetera in generale il mondo dei plug-in possa essere più utilizzabile ma allora per quanto riguarda i plug-in degli altri non ne ho la più paliera idea nel senso per quanto riguarda i nostri mi sento di dire che non è da escludere perché in realtà noi sia per nebula ma anche per alcuni progetti di cui vorrei parlarvi ma non posso al momento di cui però sicuramente vi terrò aggiornati che stiamo sviluppando adesso per noi è già importante sapere che voi sappiate che noi ci siamo che esistiamo noi siamo assolutamente consapevoli e in realtà ne abbiamo ne abbiamo anche già parlato internamente noi allora io dico dico questo se è vero che noi siamo interessati alle nuove tecnologie siamo anche interessati noi siamo da sempre interessati a quelle che sono le nicchie perché noi operiamo in una nicchia ok noi quando siamo sentiti dal telefono abbiamo parlato ok la nicchia dei professionisti del suono non vedenti è vera è una nicchia e in quanto tale non può essere come posso dire ignorata neanche da noi cioè che con la nicchia abbiamo sempre lavorato è vero che noi siamo proiettati a un mercato più ampio però noi non ci scordiamo da dove veniamo fondamentalmente dalla nicchia per cui tanto è vero che siete qui a differenza di gli altri che non ci sono allora a me dispiace non avere adesso la soluzione per quello che può servire a questa nicchia però sicuramente quello che noi sviluppiamo è proiettato ad essere usato a più livelli in modo scalare e sebbene allora noi siamo stati contattati da altre aziende per diciamo conformarci ai loro standard ma i loro standard non erano compatibili con i nostri noi tendiamo sempre ad andare con le nostre gambe perché abbiamo una nostra visione delle cose e anche proprio per diversificarsi perché voi giustamente siete di nicchia in quanto siete diciamo un po' un'eccellenza quindi non potete stare nella mischia sì non riusciremo neanche nel senso che per carità allora noi adesso per esempio detto così fuori dai denti vorremmo anche arrivare ad essere fruibili da voi con le vostre necessità così come in realtà bypassare l'aspetto puramente grafico diciamo per arrivare poi a una fruibilità totale noi adesso per quanto siamo siamo proiettati diciamo a avere una totalità di utenti indipendentemente da chi questi siano siamo comunque ancora in una dimensione aziendale che non ce lo consente banalmente cioè chiaramente mi arriva un partner molto grosso che magari opera anche in un altro settore non necessariamente nel settore audio è sto dicendo mi arriva un partner molto grosso mi fa una proposta per rendere il mio software anche realmente accessibile a tutti indipendentemente da quello che questo software contiene possiamo aprire sicuramente un dialogo per rendere la cosa molto più veloce questo sicuramente sì noi adesso dico noi adesso nel team siamo 11 persone ma di queste 11 persone che sviluppano siamo molte meno chiaramente io non sviluppo ad esempio un po' di altre cose Giancarlo Francesco Antonio Christopher sviluppano a tempo pieno quindi siamo 4-5 persone abbiamo anche un paio di consulenti esterni che si occupano di altre cose però non dello sviluppo diretto di queste cose chiaramente il fatto che siete qui comunque è importante perché comunque abbiamo stabilito un contatto è chiaramente compatibile con i tempi con i modi con le esigenze aziendali abbiamo aperto un canale ecco per noi assolutamente ma infatti non ci siamo posti neanche il dubbio nel momento in cui ci è arrivato il vostro invito per la risposta era solo sì non è che c'era una risposta adesso vediamoci pensiamo perché la nostra sì perché banalmente ci faceva piacere essere qui bene bene io ti ringrazio tantissimo appunto per esserci stato e per spiegarci vorrei per concludere quindi in futuro che cosa ci aspettiamo da voi come quello che puoi dirmi chiaramente e l'ultima cosa che ti chiedo fondamentalmente un pochino le differenze tra il nebola 3 e il nebola 4 e basta ma allora che cosa aspettare c'è una bella domanda perché in realtà le menti vulcaniche che sono dietro lo sviluppo sono talmente liquide e veloci che certe volte per me si apre diciamo si apre la nostra il nostro stand up mattutino aziendale con una novità cioè quindi io mentre so quelli che sono poi i piani aziendali di rilasci di aggiornamenti degli engine e tutto quanto diciamo da qui a qualche mese certe volte la novità è dietro l'angolo anche per me cioè io mi sveglio una mattina o vado in azienda o in questo momento siamo da remoto e c'è una novità perché c'è una nuova tecnologia che vogliamo sviluppare o perché c'è una nuova idea che viene portata sul tavolo quindi le novità sono proprio quasi come posso dire impossibili da prevedere questo ve lo dico anche io da interno all'azienda certe volte è una sorpresa tutti i giorni questo ve lo posso garantire certo mentre per quello che riguarda la differenza fra nebula 3 e nebula 4 allora a livello di qualità sonora e a livello di diciamo di differenze sostanziali non ce ne sono perché la qualità dipende dalla qualità del campionamento del vettore dalla libreria mentre il software chiaramente è pensato per girare il nebula 3 non è più supportato perché gira su sistemi 32 bit è più pensato a sistemi vecchi diciamo e anche avete magari molto ottimizzato mi sembra di aver capito proprio il consumo di risorse il consumo di risorse è stato migliorato l'ottimizzazione della memoria esattamente perché poi l'ultimo nebula gira anche sugli ultimi sistemi oramai nebula 3 è un prodotto è un prodotto legacy però ma semplicemente poi gli è stata data chiaramente è stato un po' rinfrescato a livello grafico semplicemente per non dare un po' l'idea di oggetto un po' obsoleto diciamo così anche se devo essere sincero a me la grafica di nebula 3 è sempre piaciuta e i nostri utenti sono comunque molto legati come se fosse un vintage digital a me poi piace molto perché non mi piacciono le cose troppo arzigogolate nel senso che già i computer hanno il loro da fare quando suonano e quindi c'è questa interfazza molto bella indipendentemente dal fatto che noi la vediamo o no però come vedi uso anche Ripper che non è che abbia tra l'altro Ripper no allora Ripper tra l'altro mi sono scordato di dire Ripper paradossalmente è interessante come vi troviate bene con Ripper perché addirittura la stragrande maggioranza non la totalità perché comunque chiaramente no però la stragrande maggioranza dei nostri utenti più affezionati molti di loro sono passati a Ripper per la capacità che è Ripper di gestire un po' le risorse del computer e quindi anche le istanze apribili dei nostri plugin all'interno del computer ed ha un po' anche la vostra filosofia cioè molto orientato diciamo a chi sa e gli interessa più sentire che vedere oppure configurare tutto quello che vuole esattamente noi allora noi ci ci scontriamo un po' tutti i giorni con l'utente che invece di usare le orecchie analizza il plugin con strumenti di analisi e va a cercare il pelo nell'uovo se lo se lo se lo allora non lo fanno con l'ardo un po' quelli che suonano con due o tre monitor davanti che guardano tre monitor tranne che gli spartiti e non ascoltano esatto allora io non voglio dire che non cioè va bene lo facciamo anche noi nel senso di ma non per vedere come suona per vedere se magari c'è qualche problema residuo se tutte le bande sono a posto perché certe volte magari solo ascoltando qualche cosa poi subentra anche il fattore stanchezza perché dopo ore e giorni di sviluppo qualche dettaglio specialmente su un plugin che non è basato sull'algoritmo dove magari io da profano posso dire linee di codice possono essere verificate con dei processi più semplici certe volte cioè qui banalmente sia io che Antonio che Giancarlo che Francesco bisogna mettersi le cuffie in testa bisogna andare in studio con le casse e bisogna ascoltare per vedere se c'è qualcosa che non va spesso questa cosa non è immediatamente percepibile d'altronde c'è anche da dire che le apparecchiature più vintage e che oggi apprezziamo così tanto non è che 40 anni fa si mettessero con lo oscilloscopio a vedere si mettevano a sentire più che altro esatto esatto cioè io capisco che la curiosità di vedere se abbiamo fatto i compiti a casa da parte degli utenti sia forte ma è anche vero che i vantaggi di una tecnologia del genere io ad esempio ti posso dire a questa confermi anche di tutti voi che ascoltate io qui davanti a me ho due Orban parametrici che sono bellissimi ma se dovessi guardarli con degli strumenti da misura ti metti le mani nei capelli perché gli anni ce li hanno è chiaro come possono essere ma ultimamente ho sentito addirittura questa cosa qua stavo guardando un'intervista di un ingegnere del suono famosissimo che è Bob Clearmountain Bob Clearmountain intervistato da Warren Newart in uno dei un canale molto famoso lui diceva che usava uno dei suoi vecchi clone Pultec perché lui non clone un Pultec comunque sempre vintage ma non un originale ecco diciamo così che era rotto e lui non sapeva che fosse rotto lui usava questa macchina esclusivamente sul rullante perché raccontava nell'intervista come gli piaceva proprio l'effetto che questo equalizzatore dava sul rullante se non che uno dei suoi tecnici durante una normale manutenzione ha capito che era rotto cioè questo Pultec suonava così perché era rotto perché non era le specche erano completamente sballate ma Bob Bob ha in modo genuino detto non me ne sono neanche reso conto perché per me suonava bene così chiaramente se vai a metterci un tester e vai a misurare magari gli output e qualcosa vedi il danno ma anche perché proprio è insito nelle apparecature vintage perché i componenti dopo 10 anni dopo 15 anni dopo 20 anni cambiano i condensatori la loro capacità la resistenza le resistenze i transistor la conduttività e quindi è normale ma esattamente quello che noi cerchiamo di fare cioè mi spiego meglio in una suite come ad esempio abbiamo una suite di equalizzatori Pultec style che si chiama Purple noi abbiamo messo dentro 6 plugin diversi che sono ben o male sono tutti la stessa cosa è un equalizzatore Pultec style ok ma qual è la differenza la differenza sta proprio in questa cosa qua la differenza dei componenti interni e delle varie risposte che queste macchine hanno nei vari modelli nei vari cloni più o meno moderni più o meno vintage e questi suonano tutti in modo diverso e noi ci siamo proposti di dare tutte queste opzioni un po' come la tavolozza per il pittore all'ingegnere del suono che usa il nostro strumento cioè banalmente quindi in realtà chiaramente quando troviamo una macchina rotta certe volte la rimettiamo a posto per poterla campionare ma sempre se il danno non è superiore al vantaggio diciamo che può offrire perché certe volte cioè se io prendo una macchina come può essere faccio un esempio un Fairchild prendo un Fairchild e ne prendo due e le metto una accanto a quell'altro non saranno mai uguali non vi aspettate che sono inuguali perché non è così per cui questa è anche la bellezza della stereofonia larga che avevamo una volta quando tu usavi due compressori di equalizzatori diversi cioè uguali ma magari uno aveva dieci anni in meno dell'altro sui due canali esattamente ed è infatti infatti un'altra cosa che abbiamo fatto ad esempio è quando abbiamo fatto la suite di tape che è il nostro taupe quando abbiamo fatto questo alcuni programmi li abbiamo campionati resi in dual mono per rendere una risposta diciamo uguale sia a destra che a sinistra d'accordo mentre alcuni alcuni modelli li abbiamo campionati direttamente in stereo riportando le differenze sottili ma presenti tra il canale destro e sinistro perché così ci sembrava giusto rendere la stereofilia della macchina originale chiaramente da un punto di vista chiaramente da un punto di vista ma guarda abbiamo dei plugin che usciranno ora nel prossimo futuro orientati anche al mastering dove saranno selezionabili queste cose cioè vuoi lavorare in dual mono e avere esattamente la risposta della macchina per carità però tutti e due canali uguali tutto super preciso benissimo se diamo la possibilità di farlo ma avremo anche dei campionamenti puramente stereo perché anche se siamo in mastering c'è l'ingegnere del suono che vuole riottenere la stereofonia della macchina originale allora noi che abbiamo un po' passato al vaglio queste macchine ve lo possiamo dire cioè queste sono macchine che costano tantissimi soldi sono molto precise ma sono anche molto sprecise certe volte cioè non è vero che una macchina non ci si può aspettare la perfezione da una macchina analogica anche se costa 10.000 euro no certo analogico è analogico se vuoi la perfezione devi usare quelle cose che sono tutte uguali però poi bisogna smettere di fare la differenza in te box a te box perché non si può fare perché se tutto è uguale il suono sarà quello lì bene ti ringrazio tantissimo del tuo intervento sei stato molto buono competente e ci hai spiegato io ringrazio voi cioè io avrei voluto parlarvi anche molto di più ma vi lascio anche agli altri ospiti poi se ci saranno altre occasioni insomma senz'altro noi ti inviteremo sempre grazie mille grazie veramente tanto e grazie davvero e salutami tutta la tua equipe assolutamente grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti